Amici di Eventaio, ben ritrovati! Nuova puntata dedicata al grande ciclismo, oggi una puntata particolare e anche molto molto interessante, almeno credo che possa interessarvi particolarmente perché andiamo a scoprire quali sono le anticipazioni, quello che si è trapelato fino a oggi per quanto riguarda il percorso del Giro d'Italia 2024. Prima di entrare nel vivo, la nostra sigla! Pogaccia è distanziato, ha perduto qualche metri! E guardate, Pogaccia è parto ora con Jonas Wienerga! Questa season, ha vinto un monumento, ha vinto un grande tour! E ora ha i fan di Rainbow Six! E' il campeonato mondiale! 10 anni fa per il Giro d'Italia! Guardate l'ecstazio della base di Metcalfe e Metcalfe! Eccoci qua amici, scusate, un piccolo problema di regia, ma solamente per dire che è arrivata la comunicazione che il 13, venerdì 13 ottobre, sarà presentato ufficialmente a Trento il percorso del Giro d'Italia 2024, che sarà marcato RCS e che quest'anno, diciamo con l'occasione, sarà anche accompagnato dalla prova femminile, che sicuramente è un plus, che può naturalmente dare anche più interesse all'evento, in particolare la corsa femminile. Che dire, come sempre succede, trapelano indiscrezioni, trapelano voci più o meno attendibili. Sa di fatto che Nauro Vigni ha in testa già oggi quello che sarà il percorso, verosimilmente è stato tutto più o meno definito, e quindi tra contatti, tra voci che girano, tra testate locali, testate nazionali, tutti cercano un po' di ricostruire quello che è il percorso della Corsa Rosa, che ricordiamo, quest'anno sarà particolarmente interessante, specialmente se un certo Tatei Pogaciar dovesse presentarsi al Via. Nulla di ufficiale, attenzione, si tratta di una semplice successione che ci è arrivata negli ultimi giorni, che ci piacerebbe che in qualche modo trovasse di scontro con la realtà dei fatti, naturalmente tutto questo, se Pogaciar avreste poi avversari di livello al giro, ma questo non ne dubito. Detto questo, andiamo un po' a vedere, prima di tutto però vi ricordo di aiutarci a crescere, stiamo crescendo, siamo cresciuti tanto in questo anno, stiamo facendo cose nuove, stiamo facendo tante cose in più, e il vostro sostegno è fondamentale, iscrivervi alla pagina YouTube è importante, mettere mi piace ai video, commentare, seguirci su Instagram, oppure semplicemente ascoltandoci su Spotify, su Google Podcast, che tra l'altro abbiamo scoperto che chiuderà, Amazon Music e le altre piattaforme di riproduzione audio, sta di fatto che tutto questo ci fa un gran piacere. Se volete fare una piccola donazione al progetto, trovate il link per Ko-Fi, per un piccolo sostegno, ma questo naturalmente è tutt'altro che obbligatorio, ci fa molto piacere che continuate ad ascoltarci. Detto questo, procediamo con ordine, partiamo dalle prime tappe, diciamo che almeno per quanto riguarda le cinque tappe iniziali del Giro d'Italia, tutto sembra essere definito, perché? Perché si partirà con una tappa che si concluderà con Torino, si partirà da Torino, si partirà alla stessa grande partenza del Giro del 2021, non sappiamo con quali modalità, nel senso che si parla chi dice cronometro e chi dice tappa in linea per velocissimi, ma c'è anche chi sogna, tra i quali il sottoscritto, una frazione frizzante, un po' come abbiamo visto al Tour de France dell'ultimo anno, in cui la prima tappa ha subito regalato emozioni, una bella bagarre, eccetera. Diciamo che nei dintorni di Torino c'è spazio per vedere qualcosa di particolare, ricordiamo la bellissima tappa del 2022, appunto quella vinta da Simon Yates, con appunto tanta bagarre in quel di Torino. A seguire, subito un arrivo in salita, a quanto pare, la seconda tappa si arriverà in cima al Santuario di Europa, e dedica a Marco Pantani, a vent'anni dalla tragica scomparsa del fuoriclasse romagnolo, e ricordiamo l'impresa di Pantani a Europa, è sicuramente subito un test per gli uomini di classifica, è una cosa un po' alla vuelta, da vuelta un arrivo in salita così impegnativo già dopo due tappe. Sa di fatto che sarà interessante vedere un po' come verrà gestita la situazione, e a seguire la corsa si sposterà prima in Liguria, dovrebbe esserci una tappa con arrivo ad Andora e una tappa con arrivo a Genova, quindi dopo la terza tappa si lascia il Piemonte e si va verso la Liguria con gli arrivi di Andora e Genova, e da lì si scenderà da Genova, si scenderà in Toscana a Lucca, quindi quinta tappa dovrebbe essere una sorta di Genova-Lucca. E fino a qua, diciamo che almeno stanno naturalmente alle indiscrezioni, sembra tutto chiaro e definito. Il tema adesso è vedere come proseguirà la Corsa Rosa. La Corsa Rosa abbiamo un piccolo buco da quello che hanno ricostruito, tendenzialmente parliamo dei grandi siti web di ciclismo dedicati, tutto biciweb, cicloweb, spazio ciclismo, e al contempo anche le testate locali, abbiamo visto appunto, che poi ci arriveremo, che il secolo XIX ha anticipato queste tappe Liguri e vedremo anche che le testate locali del Sud Italia ci dicono che la Corsa Rosa scenderà dalla Toscana, dalla Toscana potrebbe passare per l'Umbria, con una tappa che farà con Spoleto, che sarà o serie di arrivo o serie di partenza, ancora non sappiamo quale delle due, e poi si arriverà nuovamente, diciamo, nel territorio abruzzese, quindi la prima settimana dovrebbe concludersi nuovamente in Abruzzo, con l'arrivo in quota a Prati di Tivo, che si trova appunto sul Gran Sasso d'Italia, è una salita molto dura, molto impegnativa, che in passato è stata teatro di scontri, ora c'ho un attimo in vuoto quando l'ultima volta che si è arrivati a Prati di Tivo, però comunque è una frazione molto interessante, tra l'altro ecco, stavo guardando un po' lo storico di Prati di Tivo, e nel 2021 vinse Tadej Pogaciar, ma era la Tirreno-Adriadio, quindi una salita che è tornata in auge recentemente, sarà un po', non sappiamo se sarà uno dei punti più bassi del Giro d'Italia, io non so se ci sarà un transito nel Lazio, secondo me no, perché poi spiegheremo il perché, e comunque appunto dopo Prati di Tivo vedremo se la corsa, non ci sono indiscrezioni su un passaggio per la Puglia, mentre si inizia e si parla di un nuovo passaggio per Napoli, quindi magari la prima settimana potrebbe anche concludersi dalle parti di Napoli, o magari si arriva prima a Napoli e poi si torna su a Prati di Tivo, vedremo quale sarà l'ordine delle cose, sarà di fatto che poi dal sud si tornerà naturalmente a nord per i tapponi decisivi sulle grandi montagne, che dire, allora, nella seconda settimana c'è un po' un buco, almeno per quanto riguarda le notizie che ci arrivano fino ad oggi, magari poi a ridosso del Giro faremo una nuova puntata di Anteprima, che è sempre sfiziosa e sempre interessante da affrontare, dicevamo, la tappa successiva, la tappa numero, la settimana successiva dovrebbe tornare su verso il nord Italia con come punto di riferimento la tappa del sabato 18, che quindi dovrebbe essere circa la tappa numero 13, barra 14esima tappa, se non ho calcolato male, sono sei tappe, settimana 12, sì, 14esima tappa, 13esima o 14esima tappa, che sarà una cronometro individuale in quel di Desenzano del Garda, quindi saremo nel Bresciano, quindi vuol dire che sabato 18, alla fine della seconda settimana, la corsa sarà nel territorio in Lombardia per una frazione che potrebbe essere molto importante per la generale, perché appunto andrà a ridefinire gli equilibri per quanto riguarda la classifica generale, e a seguire ci sarà un tappone, un tappone con arrivo a Livigno, con una frazione che sarà molto lunga, infatti sono previsti circa oltre 200 km da Manerba del Garda appunto a Livigno, in cui si potrebbero affrontare, questo è quanto viene riportato dalle testate locali, con appunto la salita dell'Aprica, poi la forcola di Livigno, e poi lo strappo del Mottolino, che sarà un po' il punto cruciale verso la fine della tappa, quindi verosimilmente sarà questo il coronamento della seconda settimana, in vista poi della terza e ultima decisiva tappa, che vedrà protagonisti, diciamo, le montagne dell'est dell'Italia, perché è prevista un arrivo a Sappada, che dovrebbe essere la terz'ultima tappa, mentre il giorno seguente ci sarà l'arrivo e la frazione con l'arrivo in quota decisivo sul Monte Grappa, quindi verosimilmente tappa 19 arrivo a Sappada, tappa 20 arrivo sul Monte Grappa in quota, che dire, avevo detto spesso, forse mettere la tappa più dura all'ultima giornata non è il massimo per lo spettacolo, evidentemente però questa cosa forse sta piacendo ai vertici di RCS, perché nuovamente sembra, sembra, poi ripeto, questa è una valutazione che possiamo solamente fare quando scopriremo il percorso in tutti i dettagli, però sembra andare in quella direzione, vedremo un po' come si comporteranno, e dopodiché, ultima tappa, nuovamente a Roma, quindi l'esperimento dello scorso anno con il maxi trasferimento da nord a sud, sembra che abbia funzionato, sembra che sia stato apprezzato, e fortunatamente questa volta Roma ha superato, fortunatamente perché sono romano, confesso, ha superato il test Giro d'Italia, e riproporrà nuovamente l'arrivo sul suggestivo scenario dei fori imperiali, e vedremo se nuovamente ci saranno le cariche istituzionali a premiare il vincitore, e ad assegnare la maglia rosa che lo scorso anno fu di Primoz Roglic. Bene ragazzi, dieci minuti per anticiparvi il percorso del Giro, c'è ancora tanto da scoprire, abbiamo visto, più o meno abbiamo, cinque tappe certe, cioè, certe, pressoché certe nella prima parte, poi ci avremo l'arrivo a Prati di Tivo, la tappa di Subbiaco, la tappa Emiliana, non so se l'ha letta per i velocisti, prima della cronometro del 18 a Desenzano del Garda, la tappa di Livigno, e infine Sappada e Montegrappa. Un'anticipazione, ora continueremo a stay tuned, come dicono gli americani, staremo pronti a scoprire eventuali novità e sorprese, per quello che è un po' il primo passo, questa è la prima giornata che dedichiamo alla stagione 2024. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, appuntamento ai prossimi contenuti, e non mancheranno tanti contenuti targati, Bentaglio Cycling Podcast. Grazie e buona giornata!